All'Aquila una fiaccolata per sensibilizzare l'opinione pubblica contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari, manifestazione condotta in contemporanea a molte città italiane, per ricordare Barbara Capovani, psichiatra brutalmente uccisa a Pisa il 21 aprile scorso a fine del proprio turno di lavoro. Gli organizzatori e i partecipanti si sono voluti stringere al dolore dei familiari e dei colleghi della dottoressa Capovani, ricordando allo stesso tempo tutti gli operatori sanitari e sociosanitari che hanno avuto lo stesso inaccettabile destino. Spesso ci troviamo davanti a violenza contro tutti gli operatori, qui parliamo dei medici, ma parliamo di tutti gli operatori della sanità i quali si trovano a volte sì con la violenza fisica che fa scalpore ma continuamente tutti i giorni con la violenza verbale che a volte è anche più dolorosa perché crea delle cicatrici, crea delle ferite che difficilmente possono rimarginare. Non possiamo abituarci a fatti del genere, li dobbiamo condannare senza se e senza ma e l'auspicio è che non ci siano più vite spezzate nel corso del loro cammino professionale, personale, familiare e sociale. Oggi c'è stato proprio chiesto appunto la commemorazione, il silenzio, la sensibilizzazione anche dell'opinione pubblica sul fatto che colpire un operatore sanitario è in realtà un atto veramente particolarmente grave e che va contro gli interessi della comunità stessa. La manifestazione è stata sostenuta dalla Società Italiana di Psichiatria con la sezione abruzzese e molisana della Società Italiana di Psichiatria e dal Dipartimento di Salute Mentale dell'azienda sanitaria locale della provincia dell'Aquila.